Ciao a tutti, sono Giada Cecchetto, nuovo libro di Soberato, ho 26 anni e arrivo da Milano. Sono contentissima di questo sogno a Perugia con una notizia di 3 a 0 e non vedo l'ora di conoscere tutto l'ambiente a Soberato, quindi vi aspetto numerosi al paracetto domenica contro Puneo. Abbiamo bisogno di voi, vi aspettiamo. Ciao!